Pesto alla genovese, basilico, questo abbiamo raccolto proprio prima, dieci minuti fa, parmigiano, pecorino, aglio, pinoli, sale e olio e frullatore a immersione. Allora, basilico, pinoli, olio, olio parecchio ma non ce ne va insomma, è sotto olio. Sale, non troppo sale perché poi c'è il parmigiano e il pecorino che sono salati. Poi vediamo se serve l'altro, parmigiano, e pecorino romano. Dimenticavo l'aglio, aglio, ne mettiamo metà, dopo lo assaggiamo. Ecco qua. Adesso eccolo qua. Dobbiamo assaggiare, per forza. Buonissimo. Mamma mia quanto è buono. Facciamo una decorazione. Qua, tiè. Ecco qua. Cinque minuti e è pronto. Ottimo, buonissimo. Sulla pasta, sul pane, come volete. Ciao.